Una figura di straordinaria attualità, non solo per la morte avvenuta a Manganellate nella frazione di San Vito a Casalbuttano, esattamente cento anni fa, e per l'arroganza mostrata dal gerarca fascista Farinacci, dice il presidente dell'Ampi Cremona Giancarlo Corada, ricordando la figura di Attilio Boldori, ma anche per come ha vissuto, ha aggiunto Corada, e per le azioni importanti svolte per la città e per la popolazione cremonese come amministratore e politico-socialista. Morì poverissimo come era vissuto, e questo è importante perché rispetto soprattutto all'oggi, ma non solo per l'anticorruzione che era ritenuto incorruttibile, ma anche proprio per il rifiuto di tutti quei privilegi economici e di potere che oggi sono tanto spesso perseguiti dai politici. Quindi un vero esempio, per me lo è stato nella mia vita amministrativa e politica e spero possa esserlo per molti. Questa mattina, in Sala Consiglio a Palazzo Comunale a Cremona, una commemorazione alla presenza degli studenti per ricordare il delitto politico del fondatore della Federazione Provinciale delle Cooperative ad opera dello squadrismo fascista, una figura che è importante ricordare ancora oggi. Il semi lanciato di Attilio Boldori possa ancora germinare e ci auguriamo che germini nel cuore di tutti i giovani cremonesi. L'esperienza di Attilio Boldori come politico e come amministratore deve essere monito per tutti i futuri amministratori e quel che è successo in quegli anni bisogna stare veramente attenti e fare in modo che non accada più.